Ciao a tutti ragazzi, sono Game42, in questo video voglio fare una breve recensione su due giochi molto belli della Playstation 2. Allora, Final Fantasy X e Final Fantasy XII. Questi giochi, senza che vi fissate ragazzi, sono molto diversi, sono molto diversi, non vi fissate che sono uguali, che non è vero niente. Ma vi spiego pure il perché. Allora, cominciamo con la Final Fantasy X. Allora, questo gioco, una copertina molto, come dire, molto seria, vabbè, una copertina carina, e vabbè, non ce ne frega la copertina, ma ci interessa la qualità del gioco. Allora, in questo gioco noi vestiremo i panni di un ragazzo di questo, che noi, il nome non si sa perché lo scegliamo noi il nome. Noi ci troviamo nel magico mondo di Spira, e dobbiamo salvare questo mondo, che è minacciato da Sim, questa cosa qua, che è uno spirito malvagio, che provoca dolore e devastazione sulla terra. E quindi, le ambientazioni sono fatte molto bene in HD, quasi in 3D, c'è un miglioramento del sistema di animazione facciale, in modo più bello, sembra in modo che si gioca più realistico, le facce sono più realistiche. E' un nuovo sistema di animazione in battaglia, un nuovo sistema di animazione in battaglia, lo vedete in questo raffigurato qui. Però, allora, a me il gioco è piaciuto molto, la grafica è molto eccellente, mi è piaciuta molto, però io vi dico che all'inizio, vi dico, sono serio, non diamo cose belle a tutti, perché il Final Fantasy, all'inizio vi dico che è un po' noiosetto, vi dico la verità, un po' noiosetto, perché è troppo pieno di video, perché io, all'inizio, vi lo sto dicendo, un po', un po', vi annoiate un po', però dopo che avete giocato per quanto, per 20-30 minuti, vi cominciate a divertire. All'inizio vi dico a tutti, vi auguro che tutti i Final Fantasy, secondo me, all'inizio sono noiosi, ve lo dico, noiosi. E poi il gioco si comincia a diventare interessante, è molto bello, lo consiglio, il Final Fantasy X lo consiglio per quelli che non hanno mai giocato a Final Fantasy, mentre Final Fantasy, adesso parliamo del Final Fantasy XII, andiamo subito al XII, non all'XI, perché non ce l'ho, non ce l'ho, che lo devo ancora comprare. Allora, Final Fantasy XII, ci parliamo. Questo gioco è molto, ma molto diverso dal Final Fantasy X, perché vestiremo i panni di un ragazzo, Ivan. Ivan, questo ragazzo si trova in un, non si trova più in un, a giocare qua a un gioco, a un gioco strano, non mi ricordo manco come si chiama, e scusate la provaccia. E vabbè, vi dico che, allora, questo gioco si comincia che voi siete in un mondo, e in un mondo dovete salvare questo mondo, che dovete salvare questo mondo, che ci fu una grande battaglia. Io questo gioco, e sono arrivato molto lontano, però poi mi sono bloccato, mi sono bloccato da un posto difficile, e quindi non lo sto trascurando un po', mi sono limitato pure alcune cose. Sto giocando ultimamente, sto giocando a Final Fantasy X, che l'ho cominciato da poco, da quanto, da due giorni, tre giorni. Mentre l'astroco, l'ho cominciato da molto tempo, da un mese, credo. E vabbè, io vi consiglio, ragazzi, se vi devo fare, io vi devo, se, se Game42 vi deve consigliare un gioco da prendere, se voi siete, siete, non conoscete Final Fantasy, vi dico di prendervi non il 12, non andare al 12, e prendervi il 10, oppure quelli di sotto, il 9, l'1, il 2, il 3, però ricordatevi che l'1, il 2 e il 3 non è una grafica molto, ma molto, ma molto di merda, scusate, ma la grafica fa stifo, dal 1 al 2. Poi dal 10, in poi, si comincia a ragionare. Io vi consiglio, per quelli che non conoscono Final Fantasy, di comprare il 10, raggi, mentre per quelli che, per la PlayStation 2, parliamo adesso, mentre per quelli che conoscono Final Fantasy, per quelli che conoscono Final Fantasy, vi consiglio il 12, questo è molto bello. Un'avventura, però, il più difficile, se vi devo dire qual è, per mio parere, il più difficile è stato questo, molto questo, più difficile, mentre il più semplice, il più semplice 8 è stato questo, Final Fantasy 10. Ecco qua. Va bene, ragazzi, abbiamo recensito i giochi, prossimamente recensiremo anche i giochi della PlayStation 3, del Nintendo, dell'Xbox 360, della Wii, eccetera, e anche dell'Nintendo RDS, se mi capita. Vabbè, ragazzi, questo è stato il mio primo video nel nuovo canale, ho creato un nuovo canale, che è un nuovo canale, e mi chiamo Game42. Vabbè, ragazzi, iscrivetevi, fate quello che volete, non volete scrivere, non fa niente, iscrivetevi, e vi darò consigli sui giochi, i trucchi, eccetera, e molto altro. Vabbè, ragazzi, ciao, e un bacione da Game42. Ciao, ragazzi!